A Sansepolcro il millenario si celebra anche in un modo particolare, con una maglietta. Perché avete deciso questa iniziativa? Vabbè, per dare anche noi un tocco così, per contribuire anche noi a questo evento. Abbiamo pensato a queste magliette un po' particolari che si possono portare così tutto l'anno. Abbiamo utilizzato anche noi il rosone della cattedrale, perché comunque sono i mille anni della nascita della cattedrale. Ecco, oggi verrà il Santo Padre in città. Qual è un pensiero su questo evento? Ah, vabbè, un pensiero. Se penso al pensiero da credente, credo che non bastano parole che sono sul vocabolario. Mi emoziona solo il fatto di pensare. C'è il successore di Pietro che viene praticamente qui nella nostra vallata. È una cosa proprio straordinaria. Indipendentemente dal fatto che uno sia credente o meno, comunque è una persona molto, molto importante. Per noi è un'occasione ottima, perché comunque il Papa quest'anno ha fatto solamente di uscite, una all'estero e una qui in Toscana. Spero che questo serva a far capire comunque l'importanza che ha Sansepolcro in tutta la vallata. Io penso che Sansepolcro sia un po' il centro dell'Alta Valtiberina. Io penso che sia un po' il centro dell'Alta Valtiberina.